Si dice spesso che accanto ad ogni grande uomo c'è una grande donna. Questa affermazione viene ampiamente confermata dal legame che vi è stato tra Santa Monica e il figlio Sant'Agostino. Nata nel 331 a Tagaste, nella Numidia romana, lascia un'impronta fondamentale nella storia del cristianesimo, non solo perché madre del grande Agostino di Ippona, ma anche per la sua personalità, la sua vivacità ed esuberanza, la sua intelligenza, la sua forza, la sua determinazione, la sua sensibilità, la sua tenacia, la sua mitezza, la sua fede incrollabile. Monica seppe piegare la sua indole e accogliere con mansuetudine la volontà di Dio. Nata in una famiglia benestante, le fu permesso di studiare e si dedicò con grande passione alla lettura delle sacre scritture. Fu data in sposa ancora adolescente a Patrizio, funzionario dell'amministrazione imperiale, uomo dal carattere irascibile, ma Monica riuscì a domarne il carattere con la tenerezza e la bontà. Patrizio ricevette il battesimo in punto di morte. Rimasta presto vedova, allevò da sola i suoi tre figli. Per Agostino sognava un futuro brillante, ma il giovane la deluse con le sue scelte. A 18 anni si trovò padre di Adeodato, figlio che amò profondamente, nato da una sua relazione con una giovane di rango inferiore al suo. Per la mentalità del tempo fu impossibilitato a regolarizzare la situazione. Non rese mai pubblico il nome della ragazza, indicandola sempre come Illa, con lei visse per circa 15 anni. Monica era grandemente addolorata della condotta di lui. Terminati gli studi a Cartagine, Agostino scelse di recarsi con la famiglia a Roma. La madre aveva deciso di seguirlo, ma egli la lasciò a Cartagine. Monica, per il dispiacere, passò la notte a piangere sulla tomba di San Cipriano. All'inizio fu forse troppo insistente ed invadente nei confronti del figlio, tuttavia poco a poco comprese che doveva stargli accanto con rispetto e discrezione. Suore Elisabetta Turchi dice Agostino fiorisce quando lei smette di stare accanto a lui come una presenza eccessiva. Ella soffrì moltissimo per l'adesione del figlio all'eresia manichea. Ciò che di lei sappiamo, di certi aspetti del carattere, delle sue debolezze, di qualche disobbedienza nell'adolescenza, del suo rapporto col figlio, ci è raccontato dal grande santo nelle sue confessioni. Agostino ci riferisce anche di aver tentato, ma senza alcun successo, di attirarla nella filosofia manichea della quale era convinto seguace. L'influenza, l'umiltà, la sapienza biblica del vescovo Ambrogio aiutarono Agostino ad allontanarsi dall'eresia. La madre Monica, la quale aveva riposto nel santo vescovo la speranza e la fiducia che potesse cambiare il figlio, lo raggiunse a Milano. Nelle confessioni Agostino scriverà «Il mio sdegno verso i manichei si mutava in pietà per la loro ignoranza dei nostri misteri». Nell'aprile del 387, durante la veglia pasquale, Agostino ricevette il battesimo da Ambrogio, insieme col figlio Adeodato, col fratello Navigio e con l'amico Alipio. Monica, raggiante, era presente alla cerimonia. Aveva versato fiumi di lacrime per la conversione del figlio. Vedendola così afflitta, il vescovo di Milano un giorno le disse «Non è possibile che il figlio di tante lacrime perisca». Agostino osserva «Mia madre mi ha generato due volte, la prima nella carne a questa vita temporale, la seconda mi ha generato col cuore alla vita eterna». Dopo che Agostino ebbe ricevuto il battesimo, si ritirò ad Ostia con Monica e i due divennero inseparabili, scambiando colloqui di grande intensità spirituale che Agostino trascrive e che rappresentano una insostituibile guida per chi è alla ricerca di Dio. I due, in continua preghiera, vissero una singolare esperienza mistica, un'estasi platonica. Mancavano pochi giorni alla morte di lei e, mentre parlavano tra loro, facevano progetti per l'avvenire spirituale, si chiedevano quale sarebbe stata la vita eterna dei beati e aprivano il cuore alla fonte della vita. Si rivolsero all'ente in sé, salendo sempre più in alto nell'ammirazione delle opere divine, fino alla loro contemplazione, comprendendo che l'ente in sé è l'eterno, non c'è passato o futuro, c'è l'eterno presente. Così, parlando e contemplando, poterono cogliere un po' di eternità. Monica morirà dopo nove giorni, forse di febbri malariche, il 27 agosto 387. Agostino, dopo la morte della madre, tornò in Africa, fu ordinato sacerdote, fondò un monastero, divenne vescovo di Ippona e si scagliò contro le eresie del tempo, pelagianesimo, donatismo, manicheismo. L'impronta della madre Monica fu indelebile nella vita del grande santo e la seppe accogliere con mansuetudine la volontà di Dio. Il suo comportamento insegna alle madri di oggi la pazienza, la necessità di attendere che un figlio maturi liberamente la propria personalità e la propria vocazione. Preghiera a Santa Monica Moglie e madre dalle virtù evangeliche inenarrabili, cui il Buon Dio ha concesso la grazia per mezzo della sua fede incrollabile davanti a ogni tribolazione e alla sua costante preghiera fiduciosa di vedere convertito il suo marito patrizio e il suo figlio Agostino. Accompagni e guidi noi, spose e madri, nel nostro arduo cammino verso la santità. Santa Monica, tu che hai raggiunto le vette dell'Altissimo, dall'alto veglia e intercedi per noi, che annaspiamo nella polvere tra mille e mille difficoltà. A te affidiamo i nostri figli, fa di loro una bella copia del tuo Agostino e donaci la gioia di vivere con loro momenti di spiritualità intensa, quale voi viveste ad Ostia, per essere insieme dove voi siete. Raccogli ogni nostra lacrima, annaffia il legno della croce del nostro Gesù, affinché da esso possano sgorgare abbondanti grazie celesti ed eterne. Santa Monica, prega e intercedi per tutti noi. Amen. Santa Monica, prega e intercedi per noi.